Ai mondiali militari di Schelma in corso di svolgimento ad Acireale in Sicilia non è arrivata la tanto sognata medaglia per la campana Francesca Boscarelli. Per lei un undicesimo posto dopo l'eliminazione agli ottavi di finale per 15 a 14 contro la russa Licciagina che dà morale in attesa della prova squadra di domani dove l'Italia con il quartetto formato da Fiammingo, Navarria, Ferrari e Boscarelli punta a salire sul gardino più alto del podio. Inutile nascondersi, anche la prova individuale ha detto che le azzurre sono una squadra pronta al grande risultato con l'undicesima piazza della Sannita, la decima della Ferrari e le medaglie conquistate da Navarria e Fiammingo entrambe sconfitte in semifinale e salite sul terzo gradino del podio in una giornata con quattro medaglie per la spedizione azzurra. In gara nella sciabola maschile c'era anche un altro campano, il vice campione olimpico di Londra 2012 Diego Chiuzzi per lui un decimo posto dopo l'eliminazione subita agli ottavi di finale per 15 a 13 dal tedesco Zabo che alla fine ha portato a casa la medaglia d'oro.